Va bene, se vuoi iniziamo, comunque sono contentissimo, benvenuti o bentornati, questa sarà la rubrica in cui parleremo un po' degli universi paralleli, perché non si parla solo di Magic, parliamo anche di qualcos'altro, oggi vi abbiamo portato... Ciao a tutti, sono Alessandro, in arte, iCaterpie in arte, sai che ogni volta che dico in arte mi prende a male, quello che faccio non è arte, io sono qui sostanzialmente a cazzeggiare giocando a Pokémon, per cui dire in arte iCaterpie mi prende a male, però ciao a tutti, sono Alessandro, iCaterpie Ok, vabbè, in arte non è che bisogna vedere l'arte come una cosa altissima, l'arte è tutto ciò che ci emoziona, e tu secondo me emozioni tante persone, perché lo fai anche con me che non seguo il gioco, figurati, io vi ho seguito tantissimo agli italiani, a questi mondiali, e mi fa molto piacere Faccio del mio meglio, cerco di fare del mio meglio Soprattutto portando la gente a usare Twitter, perché anche per Magic tutte le robe lì sono tutte su Twitter, soprattutto le liste Anche per me è stato un bel passaggio, perché io arrivo che sono una persona straordinariamente non social, cioè io ho iniziato a usare, non avevo neanche Facebook, ho iniziato a fare qualcosa quando ho iniziato sei anni fa a fare iCaterpie, perché prima non avevo niente Non c'è se dovevo comunicare con qualcuno, ho ancora le lettere col franco bollo, per farti capire quanto sono vecchi E ho scoperto che la community di Pokémon è solo su Twitter, per cui ho cercato fin da subito, ogni volta che avevo un gruppo o altro, di spingere tutti Ragazzi usate Twitter, non tanto perché se volete stare a conoscenza delle cose, almeno ce l'avete Infatti anch'io dico sempre, le liste dove guardiamo, le liste dove guardiamo i mazzi, su che sito, l'unica cosa è Twitter, perché è più veloce di tutti, perché uno appena fa mezzo risultato su qualche pattaforma online, posta subito lo screenshot, è più veloce di così Non bisogna neanche aspettare Ma è anche quello perché possiamo stare facilmente in contatto con i nostri amici d'oltremare, per cui ogni volta che c'è una lista dal Giappone, boom, siè, Twitter E poi è un linguaggio internazionale, non serve saper leggere cosa c'è scritto o non c'è scritto, vedi le carte Certo Bene, 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 sono contentissimo, allora io faccio una piccola premessa per chi ci ascolta, sono influenzato, ma io stavo inseguendo Alessandro da così tanti mesi che non potevo lasciarmelo scappare Bene Io chiedo scusa per essermi fatto inseguire, ma i miei ultimi mesi sono stati primo figlio, negozio, lavoro o non lavoro, è stato proprio un periodo che quando mi hai iscritto adesso per le vacanze ti ho detto guarda, vado ai mondiali ma appena torno sono tu, ci sono, tranquilla Vai sereno, guarda, hai avuto veramente impegni importanti, anche io comunque qualche mese sono sparito per le mie cose, quindi figurati Bene, iniziamo a parlare di un po' un concetto di scintilla, in Magic c'è il concetto di scintilla con cui un'entità diciamo che ha questa scintilla e comincia a viaggiare per i mondi Quando ti è scattata la tua scintilla per il competitivo di Pokémon, di carte Pokémon? Io ho 33 anni, sono del 91, quando i Pokémon sono arrivati in Italia io avevo 8 anni e non ho idea l'età del tuo pubblico, noi siamo grandi Noi siamo tutti grandi A Magic sappi che io sono all'età media, 30 anni, io sono all'età media Ok, perfetto, per cui bene o male qualcuno si ricorderà di quel periodo, io i Pokémon li ho vissuti come un enorme bang Per cui ho storiati i Pokémon e mi hanno apprezzato di tutto, dalle biglie, il cartone animato, l'album di figurine Per cui in quel momento non potevi non conoscere i Pokémon perché hanno riempito la nostra esistenza a 360 gradi Poi chiaramente nel corso del tempo magari alcuni hanno continuato, altri meno Io sono uno di quelli che nei Pokémon ha avuto proprio l'amore a prima vista Cioè proprio, boh, appena sono arrivati mi sono completamente innamorato di quel mondo Poi il fatto che da me a scuola tutti giocassero aveva dato un senso di inclusività talmente forte Che non sono riuscito ad abbandonarlo e ancora adesso quando promuovo il mondo dei Pokémon è una di quelle cose su cui punto Tanto l'inclusività che c'è nella community, nell'ambiente E a differenza degli altri è che io mi sono fatto prendere bene e ho continuato Ho continuato sicuramente grazie a mio padre Il mio padre è molto giovane nel senso che mi ha avuto quando aveva 23-24 anni Per cui quando noi iniziavamo ad avere una decina d'anni Anche lui era, che era un mezzo nerd come noi Si è fatto prendere bene, ha iniziato a giocare e abbiamo iniziato a giocare insieme Per cui siamo passati dal compra del pacchetto di bustine in edicola Al avere la casa letteralmente invasa di carte da tutti i punti di vista Non sapere cosa farci Ho detto, boh, cosa facciamo con queste carte? Facciamo che impariamo anche a giocare E a quel punto ci siamo stupiti perché io e mio fratello sapevamo giocare Avevamo una pila di carte grossa così La lanciavamo sul tavolo E il primo che trova Charizard vinceva Cioè era un regolamento così semplice Cioè era semplice Ora mio padre non era convinto Per cui alla fine abbiamo trovato un posto, una lega Pokémon dove iniziare a giocare C'era lì la persona incaricata che ci ha aiutato E da lì è nato il tutto Questa che è il 2024 è la nostra ventunesima stagione competitiva Nel senso che giocavamo prima in For Fun Però in maniera competitiva abbiamo iniziato 21 anni fa Parlo al plurale perché mio padre che in questo momento ha 58 anni gioca con me Ecco noi 20 minuti fa noi avevamo le iscrizioni per il torneo in Polonia E mio padre viene e viaggia con me in tutti i tornei d'Europa Per cui Stoccarda, Danzica, Lille, Londra Siamo in giro per l'Europa e per il mondo da 21 anni Parlando di tuo papà è una cosa bellissima Perché anch'io quando ho iniziato un po' a giocare C'era un ragazzo che veniva sempre con suo papà a giocare Come te in due era fighissimo Anche perché io ti dico nel mio piccolo no Dava un po' una sicurezza anche ai miei genitori Perché io quando ho iniziato un po' a giochicchiare a Magic Lo facevano solo in un bar E io in questo bar qua non è che potevo dire a mia mamma a 14 anni Vado in un pub a giocare con le carte Non è proprio affidabile come cosa Invece dopo qualche anno ho aperto questo negozio a Monza Il Playtime E da lì c'era anche questo qui E dicevo vabbè io vado con un mio amico Ci porta suo papà ai tornei Quindi era più tra come cosa Non so se è capitato anche a te Che scorazzavate A Pokémon in realtà Essendo Quando i Magic e Pokémon sono nati Entrambi dalla Wizard of the Coast Magic doveva essere il gioco dei gatti I Pokémon doveva essere il gioco dei bambini E a livello di mentalità è rimasto così per tantissimo tempo Per cui è molto più facile che magari un bambino Vedendo il cartone animato Vedendo il peluche Si avvicini a Pokémon Prima che magari ad altri giochi E proprio questa cosa fa sì che Poi in realtà i tornei chiaramente non ci sono bambini che giocano Nel senso che quando dobbiamo fare un torneo Ci sono 30 junior e 1500 master Per cui il mondo competitivo è chiaramente diverso Ma il mondo dei local è un mondo in cui Tanti bambini vengono attratti E per forza di cose Io non posso giocare da solo Non ho la disponibilità economica per giocare La macchina per viaggiare Per cui deve avere necessariamente il supporto Dei genitori A me è capitato purtroppo spesso Che anche quando avevo un negozio in passato Arrivavano lì le mamme e le nonne Mi piazzavano lì il bambino Tre ore a fare i giochi Che io gli facevo giocare Però era un po' abbandonata a se stesso Per fortuna Vuoi anche il fatto che In questo momento In veste di content creator Mi faccio vedere in più Racconto la mia storia Io ho un padre che gioca con me da 20 anni Ho un bambino con cui spero di giocare Sto cercando un attimino di fare la spola Tra padre e figlio E tanti genitori si sono avvicinati A questo mondo E cercano Mi chiedono consiglia Io questa è una cosa che mi piace tantissimo Perché al diare il fatto che posso Promuovere in prima persona Quello che mi ha dato nella vita Avere un rapporto così con mio padre Per 20 anni Per cui ho avuto Mio padre Molti si stupiscono quando ci vedono in giro Io non tratto mio padre da mio padre Vuoi anche perché oramai Ho 33 anni Per cui il rapporto di reverenza Eccetera non c'è Ma per me mio padre è un amico Per cui quando ci vediamo in giro Ci mandiamo a quel paese Ridiamo Scherziamo Usciamo la sera E anche quando siamo in tornei Questa cosa si vede Per cui Chiaramente abbiamo un'età diversa Ma quando eravamo più piccoli Ed è quello adesso Che cerco di spiegare alle persone Il fatto di avere un genitore Nella vita del figlio Non deve essere pokemon Ci mancherebbe Pokemon Magic Yu-Gi-Oh Calcio Basket Pallavoro Fate quello che volete A me è proprio importante Sapere che un genitore È interessato in maniera attiva Nella vita del figlio Da figlio Posso assicurarvi Questa cosa si vede Spero poi Da genitore Che mio figlio apprezzerà Eccetera Però Il mondo È un mondo È molto sano Per cui I pokemon sono carini e coccolosi Il gioco è A livello base È semplice Ad imparare Tra l'ordine Nel senso che sono Al pieno A stati mondiali Il mazzo del campione Nel mondo Costa 48 euro Per cui Alla portata di tutti Le leghe sono generalmente Dei posti assolutamente tranquilli Quindi dei negozi In cui le persone Possono andare lì Sedersi e giocare E anche i genitori Sono interessati Tanto meglio Poi nessuno chiede ai genitori Di essere straordinariamente Competitivi Eccetera C'è mio padre Che gioca Mazzi for fun E al quinto turno di Svizzera Dice no basta Non ce la faccio più Fammi uscire Però l'importante è E esserci il più delle volte Lasciamo la scena competitiva Agli dovere Anche il papà del mio amico Faceva un po' così Quando faceva Doveva fare la win and eat Per l'attopotto Di solito vinceva E fa No io non ci vuoi Di fare l'attopotto Vai tu Era un grande A noi capita spesso Di beccarci ai tornei Ah si? Nei local no? Sì Allora generalmente Di solito È lui che concede a me Perché io Prendo i punti Almeno sono a posto Ma quando io ho finito i punti Sono io Concedo a lui In modo che gli do una mano Magari a prenderli lui Beh Ogni volta è lì Che lui fa le scene No non ti concedo niente Te la devi sudare Questa partita È giusto È giusto Io gioco Io in particolare Gioco mazzi Odiati Da mio padre Gioco i control Per cui quelli che danno fastidio Mio padre non li sopporta Per cui ogni volta Insomma Non fai niente Non posso fare niente Di che borbotta Beh Questi episodi Sono bellissimi Ti chiedo una cosa Cosa consiglieresti A qualcuno Che vuole iniziare Questo viaggio Nel competitivo Io ho visto Ho ascoltato anche Tue interviste Con altri creator Salutiamo Elia Però Cioè È carina la cosa Che anche Tu in generale Dici Non è che devi Approcciarti Nel senso Andare a giocare I mondiali Piano piano Cioè come Come approcceresti Un po' Uno nuovo Allora Ci sono sicuramente Da capire Prima di tutto Che modo Uno vuole giocare Nel senso Ho scoperto Il nuovo gioco Ripeto Io parlo per Pokémon Perché è il mio ambiente Ma penso valga un po' Per qualunque gioco Il gioco mi piace La prima cosa che devo fare È imparare bene a giocare Per cui La fortuna è che La maggior parte Dei giochi Grossi Hanno un simulatore Online Che ti permette di farlo Generalmente sono gratuiti O comunque approcciabili Un po' Sotto tutti i punti di vista Caricati quello Impara a giocare Poi Hai la possibilità Di giocare In real Quindi fisico Perché Nella tua zona C'è un negozio Perché Hai La macchina I mezzi Quindi hai la possibilità Quindi di farlo Sicuramente quella è la cosa Che consiglio Perché Intanto Hai modo di vedere Effettivamente Se il gioco ti piace Magari il pensiero Di avere delle carte in mano Ti fa schifo E lì capisci che forse Non è il caso Che il gioco di carte Sia la tua principale passione O magari La community Trovi soltanto Delle persone Che non ti stanno antipatiche Per qualunque mila motivo Ci sono tanti giochi Provane un altro Se invece Toccare Le carte ti piace Quindi puoi divertirti A fare i mille trick Possibili Immaginavi Capisci che la community Sono persone come te Normalissime Che hanno un hobby In comune Che è l'unica cosa Che vogliono fare Per sfogarsi Da giornate di lavoro E mischiare il mazzo E divertirsi Allora Scopri Un posto in più In cui poter stare In cui poter andare E divertirti Da quel momento Poi Sta a ciascomo di noi La disponibilità economica Il tempo Io per fortuna Sono riuscito a fare Di questo Il mio lavoro Nella vita Per cui Ho sempre avuto Sia disponibilità economica Che di tempo Per poter giocare Per altre persone Mi rendo conto Che non è così Per cui uno Deve capire anche Cosa fare In base Alla propria situazione Di vita Nulla toglie Che ci si possa Tranquillamente Divertire Semplicemente Facendo i local E facendo un torneo Importante Anche all'anno Io Insomma In Milano Sono tanti ragazzi Che fare così Perché Non hanno le ferie O altro C'è un bellissimo gruppo E si divertevano Tranquillamente Comunque Poi Se hai un posto Io ne approfitto Per promuovere Il mio negozio Vai Se hai un posto In cui andare a giocare Che è fatto apposta Per questo Noi ne parlavo Prima con Claudio Per quelli che Stanno ascoltando Nella zona Io sto aprendo Un po' Un negozio Di un pub Luteca A Cinisello In provincia di Milano E non sto aprendo Un posto per Pokémon Sto aprendo Un locale Da giocatore Per i giocatori Aperto a tutti Per cui Se trovate un posto In cui Vi trovate bene L'inizio Che sta all'altra parte Del bancone Capisce anche vagamente Quello Di cui state parlando Avete Io avrò La fortuna Di avere La recondizionata La musica in sottofondo Insomma Tutto quello Che si può Aditrare Ma chiaramente Altri posti Non ce l'hanno Ma magari Vi trovate bene Lo stesso Anche lì Se avete Un posto Bello Tranquillo Sano in cui giocare Vi divertite Anche di più Ci mancherebbe Poi Io personalmente Sono E sono aperto A qualunque Tipo di community Vuoi Perché l'ho già Fatto in passato Per cui Avevo già Una ludoteca Quindi Anni fa Ho lavorato In una ludoteca O gestisco Questo È un po' La mia vita Da sempre No Però Pokemon Magic Yu-Gi-Oh One Piece L'Orkana Sono stato contattato Qui Io sono a Cisello Sono stato in comune Mi hanno detto Ma fai anche gli scacchi Perché qui Abbiamo un comune Abbiamo una community Di scacchi Ma certo Vieni a giocare Scacchi Ci mancherebbe Mahjong Vanguard Letteralmente Qualunque cosa Per cui Pure Mahjong Qualunque cosa C'è questo Ma la mia ragazza Gioca a Mahjong Posso venire Ma certo Ci mancherebbe Poi io adoro I giochi in scatola Per cui Per quanto mi riguarda Villanius Di Qualunque cosa Il mio pensiero è questo Io ho passato Letteralmente Tutta la vita Con un'unica passione Giocare A me piaceva giocare So che sicuramente Sembra infantile Ci mancherebbe Non lo è Ma quando A elementari Medi e superiori Mi chiedevi Cosa volevi fare Nella vita Io ti rispondevo Sempre la stessa cosa Voglio giocare A me piace giocare Ora mi sono reso conto A 30 anni Che non è così stupido Pensare di aprire un posto Che magari altre persone Hanno la mia stessa passione Voglio giocare E parlando di questo Tu ti sei mai scontrato Con discriminazioni Barra bullismo Soprattutto nell'età Adolescenziale Per queste tue passioni Ti dico la mia Ti dico la mia prima Io personalmente A una certa età Tu hai detto Hai 30 anni 31 93 io sono Ok Qui si è là Io a una certa Ho cominciato a un po' Nascondere questa cosa qua Perché avevo paura Del giudizio degli altri Io continuavo a giocare A Pokémon Non alle carte A videogiochi Giochichiavo Alle carte Di Magic Ma In generale Era come se mi vergognassi Che era una cosa brutta Quasi Invece Da grande Soprattutto adesso Che sto con una compagna Fantastica Lei proprio mi Mi dice Ma Cioè Gioca Ma in generale Cioè Non ti spegnere Perché secondo me Chi non ha passione Non ha niente Se non Fare doom scrolling Sul telefono Che la maggior parte Le persone È tristissimo È come se si spegnesse Secondo me Tenere sempre acceso Un qualcosa In testa Anche se sei scarsissimo Al gioco Però Comunque Sono giochi sani Cioè Usi il cervello Conti Pensi un po' Alla probabilità E cose così E secondo me È molto sano Tu come l'hai vissuto Quel periodo lì Magari l'hai vissuta meglio Sì Penso Man mano che dicevi Mi venivano in mente Tipo 50 aneddoti diversi A raccontarti Allora Esperienza Personale Ti faccio A differenza Di come l'ho vissuta Ieri mio fratello Mio fratello Ha iniziato a giocare A carte insieme a me Noi abbiamo Tre anni di differenza Quando siamo arrivati Alle superiori E entrambi Siamo Presi in giro Questa cosa Per fortuna I tempi sono cambiati Sono passati 15 16 17 Insomma Sono passati quasi due decenni Da quando andavo A scuola No? Basta se mi sento vecchio Madonna E Sono passati quasi due decenni Da quando andavo a scuola Poi per fortuna Il mondo è cambiato È molto più aperto Dal punto di vista Mentale Di punto di vista Ora I nerd Non sono più Gli sfigati Da colpire Con Con i bastoncini Ma Ci sono Ora Ci sono i manga Nelle biblioteche Tanto per dirne una Quando andavo alle superiori Io no Io Sì io che mio fratello Facevamo una scuola Privata I miei genitori Facevano tre lavori Per poterci mantenere L'istruzione I miei compagni In classe No Ed era una scuola In cui Io arrivavo a scuola Con l'autobus Avevo accompagnato La mia mamma Le altre persone invece Venivano Con il Porsche Io non ho mai fatto Mistero Del Della mia passione Io ho sempre raccontato Tutti con orgoglio Il fatto che io giocassi a Pokemon Perché per me era normale Mi divertivo E mi è sempre piaciuto Tipo la prima settimana Di superiore È venuto fuori Che io giocavo a Pokemon Perché l'ho detto E mi tiravano le palline Al suono di Vai Pikachu A chiappali tutti Io ho vissuto malissimo I miei anni delle superiori Io ho continuato a giocare Ma mi sono chiuso in me stesso Io ho sempre amato leggere Ero in fondo alla classe Con i miei libri Io leggevo altro Non sono mai stato particolarmente Avverso alla scuola Per quanto riguarda le superiori E ignoravo i miei compagni di classe Per cui mi sono sempre più chiuso in me stesso Sono diventato sempre più Ho tirato su una barriera Difensiva Al fine di ignorare tutti Poi Ho iniziato Ho lasciato la scuola Per andare a lavorare Due anni Quando poi sono tornato a scuola E ho cambiato scuola Invece Ero due anni più grande Due o tre anni più grande Rispetto ai miei coetanei Rispetto ai miei compagni di classe Anche lì Io non ho mai fatto mistero Il fatto che giocassi a Pokemon Mi si è sciolto il cuore Quando dopo averlo detto Al mio compagno di banco Il giorno dopo Lui l'aveva detto A tutti gli altri E tutti erano venuti a scuola Con le carte Il DS Il Game Boy Qualunque cosa avessero Dei Pokemon Per far vedere Che anche loro Avevano un qualcosa Dei Pokemon a casa Per cui Penso che semplicemente Cambi il luogo E il momento In cui ti trovi Il mio fratello Il mio fratello invece L'ha vissuto diversamente Lui è stato preso in giro A scuola Lui ha fatto a botte Con le persone Che lo predevano in giro E ha smesso di giocare Perché A continuare a essere preso in giro Ha preferito Smettere di giocare E tagliare Il tronchi Direttamente con Con questo legame Io vi dico Il modo del superiore È difficile Per tutti Vieni preso in giro Perché sei alto Perché sei basso Perché sei magro Perché sei grasso Perché hai gli occhiali Perché non ce li hai Perché hai la maglietta Di un colore diverso Purtroppo Il mondo del superiore È un mondo Che sta molto Soggettivo A come la vivi Chiaramente Mi rendo conto Che nascondere Quelle che possono essere Le tue passioni Possa essere più facile Perché dai agli altri Meno possibilità Di prenderti in giro Io Nella vita Sono sempre stato Trasparente Non ho mai fatto Mistero di niente E Devo dire Col seno di poi Sono contento Di com'è andata Tu hai citato La tua compagna Io Mi sono sposato Di recente Ma sto con quella Che è mia moglie Da 14 anni La prima sera Che siamo usciti Siamo andati fuori A bere qualcosa Con gli amici Le ho chiesto Se doveva Tornare a casa Mi ha detto Io no L'ho portata al McDonald E erano le 3 del mattino E ancora mi ricordo La scena C'ero io Che raccontavo A questa ragazza Di quello che facevo Giocando a Pokemon Mentre bevevo Una camomilla Alle 3 del mattino E avevo sulla spalla La ex Di un mio amico Che mi piangeva addosso Dopo essere stato In discoteca Per cui vi dico ragazzi Cioè Siate voi stessi Siate sinceri A me personalmente È riuscito Un po' tutto Quello che doveva riuscire E sono qui 15 anni dopo Felicemente Sposato con un bambino Con un passato Bellissimo Alle spalle del mondo Pokemon Voglio dirvi Ne valsa la pena E posso continuare A raccontarvi L'esperienza Di tantissime altre persone Che come me Hanno vissuto Questa esperienza E questo mondo In maniera assolutamente Positiva Bellissimo stare qua Mi stavo commuovendo Sono sincero Anche perché Io e la mia fidanzata Ci siamo conosciuti In un guzzone Quindi di te Bello E di te Perché avevo fatto Tipo un autopot E ho detto Mi fai una foto E poi Sono cominciate Una cosa incredibile Poi Queste cose Secondo me Capitano anche Nel momento In cui Non ti aspetterei Se c'era una cosa Del genere Ma Scusami Io Facendo un po' di conti Tu i tuoi primi mondiali Li hai fatti In un periodo In cui andavi ancora A scuola O sbaglio Sì Il mio primo mondiale Era 2006 E allora ti chiedo Ho iniziato a giocare Completivamente 2003 Nel 2006 Avevo 14 anni E ti chiedo E invece Professori Che tu dicevi Devo andare Non so A Onolulu Che dicevano? Ma allora Io non sono mai Stato particolarmente Cioè Espansivo Professori Io La mia giustificazione Era motivi familiari Ah ok Ok Non glielo stavi a dire Eh sì Sì No nel senso Firmavo il mio Tanto c'era Tu papà Che lo firmava Veniva anche lui Quindi No ma in realtà Avevo questo accordo Con mia madre Se io che mia madre Proprio perché faceva Tanti lavori Noi perdevamo Sempre le comunicazioni Da dare A scuola No Per cui Essere in una scuola Privata Molto rigida Se mandavano le comunicazioni A casa Volevano che le Firmassi Le riportassi firmate Mia madre si dimenticava Per cui mi ha insegnato A fare la sua firma Per cui sono andato avanti Sai che Credo che andiamo Siamo andati Nella stessa scuola Io Per cui sai benissimo Della realtà di cui parlo So benissimo Le persone Il cancello chiude alle 8 Se arrivi alle 8 e 1 Devi avere la giustifica L'ambiente era quello che era Io sono stato bocciato La prima volta Io facevo l'istituto informatico Ok Perché nel 2010 Io avevo Avevo due materie da recuperare Una delle due Non sapevo niente L'altra sapevo tutto Anche perché avevo solo un argomento Il problema è che Era il primo anno In cui ho vinto il campionato nazionale E il mondiale Era alle Hawaii Io sono andato alle Hawaii E sono tornato Il giorno dopo Il mondiale Che dovevo fare L'esame di riparazione E avevo Ero biondo Perché mi ero ossigenato i capelli Ragazzi non vogliatemi L'Inter aveva fatto il triplete C'ho lo scudetto Insomma Ero biondo E avevo la collana di fiori La camicia hawaiiana La maglietta colorata sotto Il costume L'ha infradito E sono andato a scuola così A fare L'esame di riparazione Ho trovato un insegnante Che era anche il vicepreside Poi dall'istituto Mi fa Ma dove pensi di andare Conciato così Il prof non se lo ricorda Abbiamo l'esame Ah E anche di essere promosso Il prof io ho studiato La so Mi siedo Mi fa Che una scuola Io devo recuperare Argomento X E lui mi fa Bene Raccontami argomento Y Non è quello che devo preparare Non mi interessa Raccontami quello Eh lo so Lo so Lo so Queste cose qua Nel momento Per cui la scuola Diciamo che Io ero sicuramente fuori luogo Fuori luogo Completamente Perché nel momento in cui Ho iniziato ad aprirmi Un po' io Il mio fiore Ho iniziato a sbocciare Ho scoperto una realtà scolastica Che non era esattamente accessibile O aperta A quelle che erano le mie Le mie cambiamenti Sono andato poi a scuola Lì è cambiata completamente Immaginavo L'ingresso era dalle otto Alle nove Come volevi Io ero alle nove e mezza Ero al bar a fare colazione Con la mia insegnante Della prima ora Perché entrambi Abbiamo deciso di saltarla Insomma È stato un altro mondo Mi sono trovato sicuramente meglio Beh io ho cercato di omologarmi Quindi figurati te Però una cosa Sai perché te l'ho chiesto Perché non so se conosci Raynor Che è il giocatore più forte Di Starcraft al mondo Che vince premi milionari Da quando Centinaia di migliaia di dollari Da quando aveva tipo 15 anni E a lui Cioè Lui ha sempre lottato Con questa cosa qua Perché diceva Cavolo Cioè la mia compagna Che manco andava alle Olimpiadi Faceva le gare di Taekwondo E non gli dicevano niente Io andavo a giocare I mondiali di sto gioco qua Per 2 milioni di dollari In palio Giustificato Tutto eccetera E mi hanno bocciato Per l'assenza Cioè Non mi ricordo se l'hanno bocciato O l'hanno Tipo comunque Però Te l'ho chiesto Allora non so Non so se lo sai Quest'anno i mondiali Di Pokémon Ha vinto un italiano Sì Il videogioco è stato vinto Un italiano Per farti capire la differenza Il mondiale delle carte È stato vinto da un cileno E c'è stato questo bellissimo articolo In cui incide Il Presidente della Repubblica Ha invitato Questa persona E i suoi amici Al palazzo della regione In cui hanno fatto una conferenza In cui gli hanno assegnato Un'onefficienza Per i meriti sportivi Acquisiti Hanno fatto una bellissima giornata E c'era su Twitter Il report Di questo ragazzo In l'acqua In cui diceva Sono fiero Onorato Di tutto il supporto Che ho ricevuto È come se Come Mattarella No? È come quando Mattarella Ha chiamato Silva E vediamo su Facebook Un articolo Della Gazzetta dello Sport Che dice Il cielo è azzurro Sopra Onolulu Perché un italiano Ha vinto I campionati Del mondo Dei Pokémon I commenti sotto Poi ora Chiaramente Facebook È il luogo Che sappiamo In questo momento È popolato Da persone Come mia madre Per cui I commenti sotto Erano Guarda te che sfigato Sicuramente i tuoi genitori Saranno a piedi di te Questa è una donna Un'amai vista Tutti i commenti Di questo genere Una sorta di enorme Pregiudizi Che sono solitamente Quelli legati Contro tutti quelli Che hanno Una passione Nella vita Perché essenzialmente La differenza tra Come dicevi te Stare lì Girare il cellulare Stare lì E fare qualcosa Che secondo me È assolutamente sano Produttivo Costruttivo È questa La maggior parte Le persone Non lo sanno Non lo conoscono Vuoi tanto per ignoranza Perché non ci hanno mai avuto A che fare Chiaramente Però è sicuramente Più facile Mettersi lì Dietro al computer E screditare Chi si è impegnato Perché ragazzi Io non conosco Il ragazzo Che ha vinto Ma posso sicuramente Sapere quello che ha passato Visto che Lo facciamo un po' tutti Anche perché poi Il gioco è difficilissimo Il videogioco A livello competitivo Io penso che un po' tutti i giochi Siamo complicati Nel senso Un po' di tempo fa Mi ero divertito un sacco Perché c'era questo articolo Che è campionato del mondo In Repubblica Ceca Di My Little Pony Campione del mondo Vince 2 milioni di euro Sono sempre lì My Little Pony Il gioco dei cavalli Eccetera Io non conosco Il gioco competitivo Di My Little Pony Per cui posso prendere il giro Il cavallo colorato Finché voglio Ma questo ragazzo Ha vinto comunque 2 milioni di euro Per arrivare lì Avrà battuto altre persone Come lui forti Io Non so se sei fan Degli sport Inteso Abbastanza Abbastanza Qualche In realtà Un paio di anni fa Mi ha fatto Ridere molto O meglio ridere Per intristire In realtà molto Vedere come Da una parte Avevamo La realtà Italiana Che è una realtà Ripeto Sta facendo dei passi avanti Nei confronti Del nostro mondo Ma non siamo ancora Esattamente là Paragonata invece Con una realtà Giapponese Coreana Nel momento in cui Faker E i suoi SK Hanno vinto Il mondiale C'è la gente Per strada Con le bandiere Che faceva Come se noi Avessimo vinto Lo scudetto Lo stesso tipo Di tripudio Cavolo Per cui E poi Magari un po' più persone Conosco Faker Per quello che è Però Il livello di mentalità Ora non dico che Mi piacerebbe Che nel momento in cui L'italiano Vince il mondiale Di videogioco La gente vada per strada Con le bandiere Di dire Siamo campioni del mondo Ci mancherebbe So che Probabilmente Non ci arriveremo mai Però è bello Dai è stato bello Vedere qualche commento I commenti positivi A me è fatto piacere Comunque vedere I commenti positivi Dai Il cielo è azzurro Sopra Onolulu Cioè queste sono cose belle Sono cose simpatiche E poi tra l'altro Di Faker Lui ha avuto anche Un'onorificenza Più grande del suo paese Ovvero Quello di saltare La leva obbligatoria Il servizio meditare Eh sì Perché quando aveva vinto I giochi asiatici Lì per premiarlo Io ho tolto La leva obbligatoria Che tra l'altro Fanno i BTS Quindi Nel senso Questo bellissimo video Delle cantate BTS Che incontra un'attrice E non l'aveva riconosciuta E lui era di tutto Tutto serioso Perché lo prendono Anche seriamente Bellissimo Beh certo Certo Vabbè lì Penso che sia così Ti faccio Fatti di idea Sì Allora Era Penso che Era così Già molti anni fa Non so se conosci Akira È un creator di Magic Lui quando era giovane Era campione italiano Di Starcraft Ed è andato a fare Cyber Games Che era una specie Di olimpiadi Dell'eSport E mi aveva detto Che lui Cavolo 20 anni fa Vabbè In Italia Non ti dico neanche Però quando è andato in Cina A fare questa cosa qua Inizio L'hanno accolto Sembrava Che fosse arrivata Nazionale brasiliana Incredibile C'è Un accoglio Ma infatti A tal proposito L'hanno scorsi I mondiali Di Pokémon In Giappone Esatto Sono stati In Giappone Io quando Quando ero a Londra Che hanno annunciato Che sarebbero stati Mondiali in Giappone Mi sono messo a piangere Onestamente Pianto di gioia Perché Sarebbe stato Il viaggio di nozze Di mia e mia moglie Ne ho approfittato Per portarmi dietro Tutta la famiglia Porto dietro mia madre Mio padre E mio bimbo Di sei mesi Abbiamo fatto un po' Di tempo in Giappone Ma è stato Il mondiale In cui mi sono sentito Più a casa In che senso? Sono arrivati in Giappone E in aeroporto C'erano gli striscioni Con dicendo Benvenuti Ai giocatori Del campionato mondiale Di Pokémon Arriviamo a Yokohama Tutta la città Era a tema Pokémon Le Pokéball per strada I Pokémon sparsi in giro Sotto forma di gonfiabili Sotto forma di murales Sotto forma di gioco di luci Sotto forma di spettacolo di droni Nella fontana Nel centro commerciale Avevano allestito C'era una piazza E in giro A tutta la piazza Avevano allestito Dei maxi schermi A tema Pokéball Per fare vedere Tutti i giochi Insomma Proprio Mi sentivo Accolto Da una città Che non vedeva l'ora Di fare questa cosa È stato sicuramente Uno dei mondiali più belli Poi purtroppo L'azienda Intesa come Pokémon Vale una cipra Non è neanche lontanamente Adeguata Per organizzare questi tornei E li sbaglia sempre Però Sta sempre lì Sono nuovi Solo 25 anni Che lo fanno Impareranno anche loro Piccola Piccola polemica Mi è piaciuto Mi è piaciuta La piccola polemica Anche perché Ti dirò Io ho avuto Un'esperienza simile Per Magic A Monteligioni Per il lancio Di Assassin's Creed In collaborazione Con Magic Dove hanno allestito Tutta Monteligioni Con i cosplayer Le carte giganti E ti dico una cosa Ma come mai Io ho guardato un po' Dove fanno i mondiali Tendenzialmente Li fanno Negli Stati Uniti Ma Pokémon Non è un'azienda Giapponese Come mai L'evento più grosso Le fanno spesso Negli Stati Uniti Sì no Pokémon Intesa come The Pokémon È un'azienda Giapponese The Pokémon Company È un'azienda Americana The Pokémon Company International È un'azienda Europea Ognuna di queste Fa una cosa Diverso Essenzialmente La Pokémon Giapponese Fa il videogioco La Pokémon Americana Fa le carte La Pokémon Europea Gestisce male Il resto Per cui Perché li fanno In America Allora Questo non lo so Io ho passato Quasi tutta la vita A fare i tornei Mondiali in America Per cui Per me era un po' La consuetudine Fuori dall'America Sono usciti Soltanto per andare A Londra Una volta Per andare in Giappone E Una volta in Canada Però generalmente Sì Hanno annunciato Che i prossimi tornei Saranno Di nuovo Anahe Che è Los Angeles Anahe Esatto Anahe San Francisco Per cui Doppia California Tra l'altro Esatto È un peccato Secondo me Perché Non lo so So che Per loro Sicuramente È più comodo Eh Sì Da punto di vista logistico Sono lì Sono lì a casa Eccetera Poi Anche perché I mondiali di Magic Li fanno sempre Adesso ultimamente Las Vegas Perché Per loro è comodo Siamo che Nel momento in cui Devi andare fuori Devi spesso scontrarti Con delle difficoltà Che magari Non ti aspettavi Climatiche Organizzative Logistiche Per cui Penso che Per loro stare a casa Proprio Sia più semplice L'unica cosa A me personalmente Non Io non sono un fan Della Pokemon Come società Amo il gioco Amo la community Non sono mai stato Un fan della Pokemon Come società Mi piangono un attimino Il cuore Nel momento in cui Vedo che in Giappone Riescono a fare Il torneo più grande Di carte Da Guinness World Record Di Yu-Gi-Oh 8500 iscritti E a Pokemon Non riusciamo ad andare Sopra le 2-3 mila Nonostante Stiamo parlando Del franchise Più grande del mondo Come Perché Sono limitati Onestamente Non lo so Non è il mio lavoro Io posso semplicemente Fornire critiche Costruttive Da questo punto di vista Poi A me se andiamo a me Che io sono anche contento Perché a me Fare il brunch Con pancake Uova strapazzate 700 uova strapazzate Che sono altre così Anch'io Sì Anche a me piace Io non faccio colazione qua Perché sono Intolerante all'attosio E il caffè Con la brioche Mi ammazza Però una volta che arrivo lì E sono contentissimo Perché ho il jet lag Che mi sveglia Prento Fisso Alle 5 e mezza Del mattino Appena apre Il mio Prench Sono lì pronto Alle 7 Oh Servimi tutta la montagna Di pancheche Che puoi Per cui Dai Allora adesso ti faccio Delle domande veloci E tu rispondimi Un po' Di getto Caterpie o Weedle Io Caterpie Io so che sembra strano Caterpie Come pokemon preferito Nel momento in cui ci sono Charizard Raikwaza E tutti quelli grossi Eccetera Ma tu la prima puntata di pokemon Te la ricordo Me la ricordo E te l'ho fatta apposta la domanda Perché Ok So che è riferito A quel momento lì Io ero un bambino Fa questo discorso Cioè Filosofico Incredibile Ediziale Sulla spalla Dash Lo guarda Non so Non so Stare niente a spiegarlo Era Mi avrebbe stato una nuova Prima vista Poi quando sono diventato Più grande C'è a un certo punto Una puntata di pokemon Più avanti Che c'è Dieci minuti Di Di parlata Tra Caterpie e Pikachu In cui letteralmente La puntata è Pri pri Pika pika Pri pri Pika pika Dieci minuti così Non ci sono i sottotitoli Non c'è niente No E poi a un certo punto C'è Caterpie Che guarda la luna Vede un butterfly Che vola Che si rispecchia Nei suoi occhi Una metafora Del bambino Che vuole diventare adulto In attesa di crescere Il suo percorso di vita Insomma Caterpie C'è l'unico pokemon Che merita di essere Apprezzato C'è un topo giallo A confronto Beh lo è Cioè guarda che La prima stagione Dell'anima È incredibile Perché Anche come finisce La storia L'arco narrativo Di Caterpie È incredibile Si evolve Diventa grande Ed è il primo abbandono Di Ash Delle puntate Interessanti Tutta la storia Di Sabrina Wow Che è un blocco emotivo Quei genitori Charizard Che viene abbandonato Come Charmander E poi Rivalutato E soprattutto il film Che io ho proprio A cuore il primo film Perché Penso che A mia memoria È il primo film Che ho fatto commuovere Perché Perché è da brividi Mewtwo Ti piangono Per risuscitare Ash Che ti si è pietrificato Ho pianto anch'io al cinema O Mewtwo Che ti dice Anch'io ho visto al cinema Che ti davano il Mew Anch'io Lo ricordo E c'è anche lì È bellissimo Il discorso Il monologo di Mewtwo Che dice Cavolo Allora Allora Non è Che nasciamo E come la vivi Che ti dice Chi sei Più o meno Ti ho detto un po' male Ma il discorso era quello Allora ti chiedo No il senso Il senso bene o male È quello Alla fine Ma ha spaccato Alla fine Nel momento in cui Ci troviamo In 200 In una stanza Tutti a Tutti a giocare A Pokémon Magico Insomma Fare il nostro Quello che ci piace Siamo tutti lì Per la stessa passione La cosa che Generalmente Cerco di spiegare Ho tre domande veloci Sì tra l'altro Anche io sono d'accordo Io sono Sono di un prolisso Infinito Io ringrazio solo Che sei prolisso Perché Così fai tu Io non faccio niente Yokohama o No Lulu Mi spiego meglio La domanda Preferisci fare Questi L'evento più importante In una città Come Londra Come Yokohama Dove Gente esterna Entra anche solo a vedere O Preferisci che L'evento si faccia A Onolulu Che è un verbato Diciamo Onestamente non saprei risponderti Nel senso che Io sono appena tornato Da Onolulu Ce l'ho già stata alle Hawaii Non ero stato A Onolulu Come città E l'ho andato Su un'altra isola Sono bellissimo Io mi sono trovato Da Dio È bello il clima È bello C'è proprio L'atmosfera Che ti dà Essere alle Hawaii Mi ha dato Un senso di serenità Incredibile Poi chiaramente Il fatto che fossimo Di per i mondiali Non lo sapeva nessuno Perché eravamo All'interno Di un centro congressi Dietro a un albergo Per cui Non lo sapeva nessuno Ma stessa cosa a Londra Perché se vai a Londra Non è che da qualche parte Lo scopri A me è proprio Il Giappone Per quanto mi guarda È il mondiale Per eccellenza Perché Il senso di inclusività Di cui citavo prima È qualcosa Che non ho trovato Da nessuna parte Dal punto di vista Organizzativo È stato complicato Perché loro Non erano preparati Ad accogliere La fiumana Infinita Di giapponesi Che c'erano lì Per vedere Io sono contento Perché ho fatto Un sacco di soldi Con le robe Che mi hanno provato a vendere Io benedì Che giapponesi Sotto questo punto di vista Ci mancherebbe Però Fossero organizzati meglio Giapponesi Tutta la vita Ma perché Ora chiaramente Il Giappone Non è che ti attira Tutti il mondo Perché non è che dici Ah ok Sono in Italia Mi sveglio domani Vado in Giappone Che economicamente parlando È stata comunque La trasferta più costosa Che ho fatto Io In questo momento Io non so Com'è il mondiale A magic La qualifica Il mondiale a magic È complicata Da avere È Sì È molto elitario Perché Non è appunto È un modo Che apprezzo E non apprezzo Perché apprezzo Perché premiano Il grinding Non apprezzo Perché secondo me Anche se valgono meno I punti che fai Il local Rispetto a Un international Secondo me Perché c'è un passaggio Di mezzo Del mondiale C'è il pro tour Che sono tipo I grandi slam Del tennis E tu ti devi qualificare Localmente agli europei Da gli europei Ti qualifichi al pro tour E dal pro tour Ti qualifichi ai mondiali Quindi hai tipo Una tripla selezione In cui i migliori Dei migliori Vanno al mondiale Esatto E sono in 100 Sono in 100 E se tu arrivi ultimo Ti danno 4000 Se arrivi ultimo A poche modo Fino all'anno scorso Invece era a punti Per cui tu facevi Tot punti Eri qualificato al mondiale Bello Chiaro Semplice Questo faceva sì Che tante persone Così generalmente Quest'anno è cambiato E da noi C'è una classifica Europea Una americana Eccetera I primi 125 In Europa Saranno qualificati Al mondiale Sommando I punti che fai Durante l'anno Questa è un'enorme novità Per noi Perché Non siamo abituati A questa cosa Come invece So che negli altri giochi Invece è quasi Abitudine Io sono un fan Di Io non sono fan Di questa cosa Nel senso che per me Il mondiale A me piace che sia un evento Perché a me Del torneo fino a se stesso O è che non fatti un po' Mi interessa Fino a un certo punto A me piace che sia un evento Per cui Altre persone invece Vorrebbero un mondiale Ancora più litario Un mondiale In cui proprio solo I migliori Dei migliori Dei migliori Arrivano a giocare Nella mia mente Vorrei dare l'opportunità Di fare entrambe Di fare entrambe le cose Per cui mi piacerebbe Un mondiale Sempre più litario Ma una volta Pokémon C'era quella Che veniva chiamata Last Chance Qualifier Bello Un torneo Completamente aperto A chiunque C'era anche a Magic Un giorno prima del mondiale Per cui tu partecipavi Single elimination Magari Esatto Bellissimo Se facevi schifosamente Vincere tipo Undici di fila Facevi il mondiale Figo A me piacerebbe Reintrodurre una cosa simile Per cui Allora va bene Allora io Parlo Con Il sedere parato Nel senso che io comunque Sono un po' di anni Che chiudo Primo in Italia Nella top europea Nella top mondiale Per cui io Parlo Con La consapevolezza Che io al mondiale Ci andrei comunque Però a me piacerebbe Un mondiale In cui magari Cento persone In tutto il mondo Si qualificano E basta Anzi guarda Ne vorrei 120 Per la precisione 128 Per la Svizzera Ne vorrei 120 Perché 8 Li prendo Dalla Chance Qualifier Ah giusto Fighissimo Io mi faccio un torneo Da 10.000 persone Dalla Chance Qualifier Faccio un bel Last Man Standing 18 tour Di Svizzera In rinnovazione diretta Gli ultimi 8 Quelli che sono riusciti A non svenire Prima della fine Del torneo Possono giocare Il torneo Il giorno dopo Sono rimasti tipo Brock Lesnar Kurt Angle Esatto A me piacerebbe Una cosa genere Perché? Perché al tempo stesso Avrei un mondiale 8 persone in più Non ti cambiano Il torneo Ok Anche perché Se uno magari Si è fatto 18-0 Il turno prima Magari tanto schifo Non deve fare No Direi io Detto questo Hai un mondiale Super elitario Però Hai anche Il grande evento Io Vorrei una cosa simile E se ti dicessi Come fanno Magic adesso Che Secondo me Hanno Ha fatto questa furbata Il mondiale È in realtà Uno degli eventi Del MagicCon Fanno proprio Una fiera Solo di Magic E questa fiera Fa tipo 10.000 12.000 Persone al giorno Paganti Per entrare E tra cui Dentro Ci sono anche Quelli che giocano In Pro Tour O in mondiale Io quando ho fatto Il mio Pro Tour Era bellissimo Avevo il mio badge Potevo arrivare prima C'era la mia lounge Vip Eccetera Però era figo Perché noi Del Pro Tour Avevamo il nostro stage Con tutte le cose televisive Eccetera Interviste Eccetera E poi c'era la fiera Che comunque Portava lì Anche perché Se tu vuoi Non dico vivere di quello Quello è un po' più estremo Però Per abbassare un po' la varianza Fare un torneo Da mille persone Secondo me Forse aumenta un po' troppo La varianza Detto ciò Un po' più limitato Ma facendoci un evento Di contorno Secondo me sarebbe Tantissima roba Per Pokémon Sarebbe una roba Incredibile Come appunto Yokohama Perché io Queste cose che mi ha detto Le ho riscontrate Da tutti quelli Che sono andati lì Solo per andare a vederlo E io Ho tanti amici Che sono andati lì Anche solo per vederlo Solo per fare gli scalper Per comprare 12.000 pupazzini Di Pikachu Da rivendere in Italia Però Cioè Mi hanno detto Cavolo Se si fossero Un po' più Cioè E che sembrava Che non si aspettassero Che venisse gente a vedere E questa è una cosa Difficilmente mi troverai Spendere parole positive Per l'azienda E sai cosa Io Ho ancora impresso Nella memoria I nazionali Di Pokémon Che facevo Mirabilia Una vita fa Quello di Miramilani È stato il primo Che ho vinto Nel 2010 Io voglio andare indietro Di due anni Nel 2008 Abbiamo fatto Il nazionale a Milano Eravamo in un albergo Nella sala di un albergo Io ho fatto finale Nel momento in cui Il mio avversario Ha vinto Ed è stato celebrato Campione nazionale Che all'epoca Era Qualcosa di incredibile Noi giocavamo Noi giocavamo tutto L'anno per quello Ok Si gira verso il pubblico E il pubblico Non c'era Perché? Perché era il secondo giorno Nessuno era rimasto C'erano i miei parenti I suoi parenti Gli arbitri Non era rimasto nessuno A celebrare il campione nazionale Non c'era internet Non c'era lo streaming Non c'era niente Per cui il fatto Che lui fosse lì A vincere il campionato nazionale Un evento incredibile Non dico che lo sapeva nessuno Ma secondo l'altro Non c'era lì nessuno A celebrarlo Due anni dopo Vinco io a Mirabilandia A Mirabilandia C'era una fiumana di curiosi Che quando io ho vinto Mi sono girato E ho visto davanti a me 2000 persone Che non avevano idea Di che cosa stava succedendo Ma quando ho alzato il trofeo Mi ha applaudito E io avevo 2000 persone Che applaudivano Ma chi ne aveva mai visto 2000 persone a Pokémon Eravamo i 40 a giocare Per cui È stata una scena incredibile E secondo me Questo fa la differenza Il campione mondiale Dovrebbe essere celebrato Da una fiumana di gente Un sacco di persone Anche la gente Che ha una idea Di che cosa sia successo Ma ti dice Vieni a applaudire Il campione mondiale Ed è il grande evento Che vorrei Io ho paura Che un evento elitario In cui c'è solo quello E non la figlia Di cui parli te Che sembra una cosa Molto figa Se mi fai solo quello Alla fine Ok lo streaming Però non voglio Che mi giro Verso il pubblico Vinco le cose C'è soltanto Mia moglie E mia madre Che mi fa Probabilmente mi applaudirebbero Comunque Infatti adesso Hanno fatto la furbata Da noi Che fanno l'evento Su tre giorni Fanno venerdì Day 1 Day 2 Lo fanno sabato E domenica Fanno solo A topop Così tu quando è finito Sono tipo A noi è sempre stato così Noi fanno Venerdì day 1 Sabato day 2 Con topop Top 4 E domenica Solo i finali Ah ci sta Però è così Domenica Visto che siamo in fiera Cioè 10.000 persone Almeno quando alzi la coppa È divertente Non è che molti Se ne vanno a domenica No Da noi comunque Da domenica C'è sempre gente Perché se metti solo quello Non ho nient'altro da fare Ah beh Quello certo Quello certo Per cui dici Il fatto Di non aprire la location Perché Nel momento in cui C'è il posto dove si gioca Il Pokémon Center È da un'altra parte Non hai nessun posto Dove far giocare le persone Non hai nessun posto Dove far fare compravendite Non hai nessun posto Dove far scambiare Non ci sono neanche negozi? No assolutamente no Zero? Ci sono Ci sono Alcune volte Ci sono dei rivenditori Eh Ma è Ma sono a parte Sono comunque separati Ah Soltanto nei tornei piccoli Sono dentro la venue Ah Ecco so Adesso per esempio All'internazionale americano C'era La sala Al piano terra E al primo piano Imboscata C'erano i rivenditori Della serie che O sapevi che c'erano lì O neanche li vedevi Per cui Quello magico Sono proprio diverso Sono proprio in mezzo Eh io mi trovo lì E sono la domenica Sai io Da giocatore competitivo Io la domenica Di solito prendo il volo E torno a casa Perché non c'ho niente da fare La finale La finale La riguarda in streaming Quando voglio Devo stare lì a guardarmi Cioè A meno che non c'è un mio amico Ma altrimenti Se la devi giocare Te ne fai una ragione Dai Sì Non è il caso Di solito ai mondiali Non vado Bellissimo Beh quest'anno non sei andato male Top 32 non è male Sì Gli altri Gli ultimi tre anni però Non avevo vinto neanche una partita Nessun mondiale Per cui Ah io e il mio pro tour Ho fatto 0-5 Quest'ultimo Però ero un po' emozionato Era il mio primo E mi ero un po' emozionato Allora ti chiedo L'ultime due domande Mazzo Tire 1 O mazzo Antimeta In generale O Quello che vi hai fatto capire Quello che ti piace Per me o per gli altri Perché agli altri consiglio Tire 1 Ma io ho smesso di giocare Tire 1 G10 anni fa Per te Per te Per te Io gioco solo Antimeta Solo Antimeta Ma in generale Anche se il Tire 1 È PJ Hot Control Sì Ah Beh Mi piace Perché allora Il mio discorso è questo Ho iniziato a giocare Troppo tempo fa Per cui se mi dici Ti piace giocare a Pokemon Certo Ora ho casa piena Ci mancherebbe Ma il motivo per cui Io continuo a giocare Non è certo Le carte Pokemon Io continuo a giocare Per i miei amici Per la community Per quelle 60 persone Che nel mondo Pokemon Erano al mio matrimonio Due settimane fa Per cui Non fosse Pokemon Fosse l'Orcana Io amo il mondo Disney Potrei tranquillamente Passare a Disney Senza nessun problema Probabilmente sarebbe anche Un'organizzazione migliore Il mondo In Europa sono tutti lo stesso Per cui Io mi aspetto Cioè il fatto di giocare a Pokemon Per me deve essere Qualcosa in più Io cerco Probabilmente Io potrei prendere in mano Qualunque tipo di Tiger 1 E saperlo giocare Perché? Perché gioco talmente tanto Che per me è facile Giocare a Tiger 1 Farei il risultato con questi? Forse Ma non mi diverto Quello che mi diverto è Provare per me stesso Una sfida aggiunta A me piace cercare Quei mazzi Che magari non sono I più semplici da giocare Il contro Che sto giocando io È un mazzo Che ero Penso di essere L'unico a averlo portato al mondiale Forse c'era un'altra persona Perché il mazzo era Molto complicato Madonna Io l'ho provato Su un Pokemon Live Madonna Cioè Ho vinto mezzo game Non sapevo cosa dovevo fare Ci sta In tante persone Io faccio coaching Faccio masterclass Sono in tanti Quelli che si approcciano E mi dicono Voglio imparare il mazzo Io ci provo anche Faccio tutto l'aiuto Che posso Ci mancherebbe Ma sono in tanti Quelli che alla fine Dicono Guarda Il mazzo è oggettivamente Complicato Preferisco giocare Qualcosa di più semplice Io ho iniziato a giocare Il mazzo a ottobre scorso In 9-10 mesi Onestamente Mi sono divertito tantissimo Ma perché a me piace Essere Challenge Sfidato Eh sì esatto Mi piace Mi piace sfidarti E migliorarti Esatto Poi È anche un modo In cui a me Mi piace giocare In senso Preferisco stare lì A pensare Piuttosto che A segnare E attaccare Fin da subito Mi piace Costruire qualcosa Avere un mazzo Continuare a Studiarlo Vedere come Migliorarlo Noi per fortuna Abbiamo una rotazione Una volta all'anno Per cui Il mazzo Cambia ogni settimana Perché Ogni settimana C'è un torneo Un giro per il mondo Per cui Devo sempre essere Aggiornato C'è un lavoro Della madonna Che c'è dietro Dello studio Di tutti i tornei online Io prima Prima dell'europeo Ho dedicato una settimana Ho guardato 720 partite Soltanto per fare Perché quando Quando trovi Il mazzo ottimo I 20 persone Che sono nel tuo team Lo portano tutti Il torneo Da 200 persone Se già in 40 Lo stai portando È già Cos'è Il 20% No L'enorme lavoro Ora con moglie Quindi Ma i mazzi davvero Corsano un po' Adesso esce Una sorta di tematico Di Cialzar Che ti ha Tutti i tanti Sì esatto Che poi è pure Abbastanza Abbastanza Sì Io so che ci sono Anche in Italia Ci sono tanti Tanti gruppi Di ragazzi Che si trovano C'è questo gruppo Di Milano Sono una ventina Si trovano Non dico tutte le sere Ma comunque Almeno due Tre volte a settimana Fissi a giocare Sono sempre lì Loro hanno vent'anni Io ho 33 Eh esatto È quella Però Generalmente sì Penso che quello Siamo un po' uguali Per tutti i giochi Ultima domanda Così ti lascio andare Se vedessi giocare Tuo papà Contro tuo figlio In una finale importante Che ti farei? Ah mio figlio assolutamente Non c'hai neanche pensato Nel solo livello No no Allora io L'anno due anni fa C'è stato questo Questo torneo a Torino Era Un Un meggio Era a Torino E io ho portato mio figlio Perché all'epoca Non c'era nessun limite Minimo di età Per partecipare Mio figlio aveva 5 mesi L'hai iscritto? L'ho iscritto Ha partecipato al torneo Ho anche Ho anche le foto C'è mia moglie Che lo mette sul tavolo E lui lì Che si guarda in giro No Chiaramente abbiamo spiegato All'avversario Che concidavamo la prima partita Lo abbiamo fatto droppare Subito dopo L'unica cosa che volevo Era che A quel torneo C'eravamo Lui iscritto Io E mio padre Eravamo tre generazioni Di cremascoli Nello stesso torneo Per cui ho fatto Abbiamo fatto la foto Tutti insieme Stupendo Abbiamo fatto La pokemon Non l'ha vista Come una cosa divertente E la settimana dopo Ha messo una regola ufficiale Che se non hai 6 anni Non puoi giocare Ma dai Ma dai Era una roba super simpatica Ma dai Io l'avevo vista Come una cosa simpatica Ma poi avessi fatto Ma avessi fatto Del male a qualcuno Cioè E' dato un bye Un cazzatone Per questa cosa E In senso Io volevo solo fare Una foto con mio figlio Che è un po' Cosa C'è un senso Ma non fregava niente Dei premi o altro Però a quanto pare Ha dato fastidio E non si può più fare Io infatti Su twitter C'erano Alcuni papà Che subito dopo In giro interazione Mi hanno scritto Hanno scritto Volevo portare mio figlio A giocare Ma ora non posso più Chi sia di chi è la Colpa E mi taggano Ragazzi Io non ce l'ho fatta apposta Non volevo scatterare Un padre Non lo so Ma l'ho fatto con mio figlio Per cui Però sì Penso che non si arriverebbe Mai a quel punto Penso che mio padre Concederebbe immediatamente Prima Perché lo ha sempre fatto E Per concedere prima Però sì Sicuramente mio figlio Io spero Io spero Che si arriverà A questo punto Significa che sono riuscito A trasmettere La mia passione A mio figlio Io Vivo di calcio E pokemon Per cui Spero che mio figlio Cresca Facendo le stesse cose Al momento I calci li tira E le carte Le sta mangiando Per cui Diciamo che Beh Sta iniziando bene Esatto Va bene Grazie mille Per essere stato qua Con noi Mi hai raccontato Una storia bellissima A tratti Commovente Davvero Se vuoi anche ribadire Dov'è il tuo negozio E forse se c'è anche il nome Quando aprirà Mi fa piacere Certo Allora il posto si chiama New Game Non è ancora in fase Di ristrutturazione Per cui ancora Per un paio di mesi Siamo impegnati Se poi la banca Mi risponde I messaggi Apro anche volentieri prima L'idea è quella Di fare una grande inaugurazione Tra novembre e dicembre L'inaugurazione È un Ho intenzione di fare Due giorni Tornei Prevalentemente Pokémon Ma perché So già che la mia community Sarebbe interessata Per cui contavo di fare Per farvi capire Che cosa potete aspettarvi Poi in futuro Qualora Voleste venire 5 euro l'iscrizione Il primo premio in paglio Sono 20 box Per cui Tutti si portano a casa Drink Promo Gadget La mia idea è proprio quella Viene anche il sindaco A tagliare il nastro Bellissimo Assolutamente Bellissimo Sindaco di Cini Ma da te E da Sfera e basta E qui Chiaramente è esteso L'invito a tutti Quei da Community Magic Io poi Nel corso dei prossimi mesi Mi vedrete spuntare In qualche gruppo Ehi ciao So Alessandro Sto a prendere un negozio Se vuoi venire vieni Per cui probabilmente Mi vedrete spuntare Nel corso Dei prossimi mesi A qualche parte Invito esteso a tutti Se siete tutti benvenuti Il cinisello è a due Fermate di tram Dalla metro Bignami Ci sono due grossi Parcheggi di fianco Aperto tutte le sere E c'è una biblioteca Piera di Non lo dico Cioè c'è mio fratello Che gestisce il bar E ora Non è la persona più simpatica Il mondo Però sa fare da bere Per cui insomma Cercheremo di fare Del nostro meglio Per offrire a tutti I giocatori Di tutte le community Il luogo Che si meritano Ottimo Ottimo Grazie mille Magari mi presento Con lo structure deck Che compro lì al momento Assolutamente Vieni vieni Ti insegniamo a giocare Ti serve qualche aiuto Qualche info su Magic Chiedi pure Quello sicuramente Io Per fortuna Se no da abbastanza L'ambiente Ho spesso avuto contatti Con gli altri giochi Per cui Cerco sempre qualcuno Delle altre community Che almeno mi dica Che cosa devo fare Ora Se per giocare a Magic Sto a giocare Ma da qua A dirti come si organizza Il torneo Ancora no Mi metterò Mi metterò lì Studierò Per fare in modo Che anche Magic Così come gli altri Ma sei un ragazzo Super intelligente Per giocare E' super intelligente Ci arriverai Sicuramente I miei professori Non ne hanno Dello stesso avviso Però ci provo Non si guarda Da quello Ciao Grazie mille A tutti ragazzi A presto Alla prossima